Gocce di Natale torna da restauro mobili antichi colitti, esperti da tre generazioni nella vendita e nel restauro di mobili antichi e oggettistica in via dei Petrini, Sassala Consilina. Siamo nel laboratorio che è il centro dell'attività, perché qui che il lavoro dei maestri artigiani prende forma e avviene il restauro con le tecniche e l'arte di un tempo. Stiamo vedendo ora nel particolare la tecnica della lucidatura con gomma lacca a stoppino. Tanti sono i pezzi di antiquariato presenti in negozio, adesso Antonio ci descrive questa bellissima console. Sì, infatti questa è una splendida console in stile Luigi Filippo, quindi parliamo di un periodo 1830-1850, in mogano e piuma di mogano, come si può notare, un bellissimo effetto fiamma sul frontale della console. Ma il restauro mobili antichi colitti non è soltanto restauro e mobili antichi, ma è anche vendita di oggettistica in stile. Fai quindi un regalo di Natale di classe con gusto e scegli il restauro mobili antichi colitti. Inoltre fino al 6 gennaio approfitta degli sconti su tutta la merce in esposizione che puoi trovare qui da restauro mobili antichi colitti in via dei Petrini, Sassala Consilina. Restauro Colitti auguro a tutti buone feste e felice anno nuovo.